buongiorno a tutti oggi vedremo come caricare dei file su un servizio gratuito di google che si chiama google sites per poi ottenerne il link di download e utilizzarlo per eventualmente inserire una musica di sottofondo in un sito oppure pubblicare un video con un player html 5 per quello che volete addirittura si può usare anche per caricare delle immagini qualsiasi cosa dunque google sites a due grafiche una più recente una più antica io in genere utilizzo quella più antica perché mi trovo meglio però si può utilizzare anche quella più recente per cercare google sites basta digitarlo sulla ricerca di google anche se per accedere occorre avere un un account ma quelli quello ce l'hanno tutti probabilmente ci si clicca sopra e si accede con il nostro account google questo è google site io ho creato già un sacco di un sacco di siti creiamo in un altro per prova andiamo su crea si crea un nuovo sito vedete si può scegliere la versione classica o la nuova versione io scelgo la versione classica perché mi trovo meglio a questo punto possiamo scegliere il tipo di sito con modello vuoto oppure un modello di un per insegnanti per chi vuole creare un sito di football eccetera eccetera si dà un nome al sito il nome del sito è importante perché sarà anche gli url l'indirizzo del sito stesso chiamiamolo archivio perché noi vogliamo creare un archivio di siti chiaramente questo nome archivio probabilmente avranno scelto altri quindi inseriamo per esempio archivio 32 per vedere se per caso non l'hanno scelto si va su non sono un robot e quindi si va su crea sperando che questo archivio 32 non abbia scelto nessuno come il nome e invece no non è disponibile perché è stato già scelto allora chiamiamo un po scegliamo 33 22 non sono un robot proviamo si attende con fiducia la creazione del nostro sito ecco fatto questo è il nostro sito e chiaramente l'indirizzo come vedete sites google.com site archivio 33 22 questo è la home page del sito adesso si va su crea pagina in alto a destra ci si clicca sopra questo è interessante perché dobbiamo assegnare un nome alla pagina chiamiamolo file vari il nome della pagina e selezionare il modello da usare questo è fondamentale perché noi vogliamo creare questo sito non per creare un sito statico come è in genere nell'intendimento di chi utilizza questo servizio di google ma per creare uno schedario uno schedario di file andiamo su schedario qui si mette la spunta metti la pagina sotto home page qui si procede la gerarchia si mette appunto questa spunta qua per tenere la home page a livello superiore e questa pagina sotto la home page file vari è il nome mettiamoci anche perché non so ecco file vari andiamo su crea ecco fatto qui c'è la home page qui c'è file vari se si clicca la mappa del sito vedremo che appunto c'è la home page archivio reta 2 il nome del sito la home page si ritorna a file vari a questo punto noi possiamo aggiungere tutti i file che vogliamo si va su aggiungi file o questo aggiungi link aggiungi da google drive noi aggiungiamo alcuni file cliccando qua sopra aggiungiamo i quattro insieme i file si tiene premuto ctrl su windows si seleziona tutte e quattro si va su api operazione completata ecco i file che sono stati caricati sulla nostra pagina del nostro sito come possiamo utilizzare questi file semplicemente si va su scarica e si va su copia indirizzo link e si incolla in un file di testo del blocco note questo è l'indirizzo facciamo lo stesso per tutti e quattro i file come vedete già dall'icona si capisce che tipo di file questo è un tipo di file generico è un file javascript questo è un file css generico questo invece è un file mp3 è un file quindi audio infatti si vede l'icona dell'altoparlante questo invece è un file video mp4 e si vede l'icona di una cinefresa l'indirizzo del file come vedete ha la parte iniziale che termina con l'estensione del file in questo caso è un'estensione y s y j s che è appunto l'estensione del file javascript la parte eccedente si dovrà eliminare qui l'estensione del file è css e la parte eccedente si dovrà eliminare qui l'estensione del file mp3 la parte eccedente si dovrà eliminare qui l'estensione mp4 l'estensione del video quindi la parte eccedente si dovrà eliminare se noi incolliamo sul browser uno di questi indirizzi noi scaricheremo il file in oggetto proviamo copia incolliamo incolla e vai vedete qua in basso sulla sinistra si vede che io ho scaricato questo file proviamo con un altro file ma chiaramente finisceranno tutti nella cartella download da cui io sono partito come vedete ci sono questi file che hanno la 1 tra parentesi che sono identici ai file che io ho caricato vedete dunque cosa si può fare con questi file la cosa interessante di google sites è che si possono modificare i file senza cancellarli esempio pratico apriamo per esempio questo notepad plus plus che è un un editor di file andiamo su file apri e apriamo uno di questi file che noi abbiamo caricato per esempio che sono articoli correlati apriamo questo è il file noi modifichiamolo modifichiamo inseriamoci per esempio un commento file caricato su google sites si può andare su salva per salvarlo e si può caricare nuovamente su su questo sul sito di google sites andiamo su aggiungi files e aggiungiamo appunto quello modificato articoli correlati come vedete non è stato aggiunto un nuovo file articoli correlati ma è stato sostituito a quello che era precedente che c'era precedentemente ma ti vedete qui c'è v2 cioè che ci sono due versioni se noi si clicca su v2 si visualizzeranno le due versioni la versione 2 che è quella corrente cioè è stata sostituita da quella nuova e la versione 1 invece quella precedente noi possiamo passare alla versione 1 o alla versione 2 indistintamente questo è una cosa molto importante per lasciare sempre comunque online dei file anche dopo anche potendoli modificare dunque poi che cosa si può dire altra cosa importante di questo di questo servizio è che noi possiamo utilizzare per esempio i file audio e file video per creare dei player audio e dei player video da inserire nelle pagine web poi abbiamo abbiamo avuto ottenuto l'indirizzo diretto di questo file audio abbiamo visto che è questo lo copiamo e lo incolliamo in quello che è un codice di base di un player HTML5 che è questo si sostituisce soltanto nel tag dove deve andare l'indirizzo appunto dell'audio da riprodurre questo è il codice HTML5 di un audio si copia si trova per esempio un editor online come questo si incolla questo codice e come vedete qui di sotto viene creato immediatamente un player audio per riprodurre questa musica qui c'è il volume e qui c'è anche la icona per scaricare questo file audio vedete si può fare anche per un video per esempio questo è l'indirizzo del video che abbiamo caricato si sostituisce a l'indirizzo del video in questo codice del player video generico di HTML5 si incolla si utilizza sempre questo servizio online ecco vedete che il video viene visualizzato qua video molto breve si può magari aumentare o diminuire la larghezza mettiamo 800 si raddoppia ecco dunque questi codici perché è interessato magari a utilizzare questo servizio per incollare nelle pagine web del dei codici appunto per riprodurre video e poi riprodurre audio senza avere senza utilizzare servizi esterni come youtube o altri servizi audio può consultare l'indirizzo del post testuale che io inserirò sotto il player di questo video tutorial dunque mi pare che non ci sia nient'altro da dire che chiaramente poi questi video che sono questi file che sono stati caricati possono essere naturalmente eliminati quando si vuole basta metterci una spunta sopra andare qua su elimina e per eliminarli oppure ci possono spostare in una nuova cartella o aggiungere il nostro servizio di google drive nella mappa del sito come vedete si può passare da una pagina all'altra quando ne avevamo create quando ne abbiamo create più di una vedete questo è il nome del sito questa è la home page e poi ci sono tutte le varie pagine che noi potremmo creare l'importante è crearle appunto come con la scelta di schedario per poter aggiungere tutti i file che si vuole però originalmente come mission originale quella di google site è quella di creare dei siti statici cioè dei siti non tipo blog che vengono rinnovati addirittura giornalmente pubblicando nuovi post ma dei siti che rimangono identici diciamo così vita natural durante o perlomeno che vengono modificati ogni ogni tanto e non inserendo nuovi contenuti come per essere un portale di una prologo o un portale di un di un'organizzazione dunque adesso mi sembra proprio di aver finito non mi ricordo di avere nient'altro da aggiungere alla prossima di un'organizzazione